Tutti i nostri nuovi prodotti, prima di essere immessi sul mercato, sono sottoposti a severe verifiche di funzionamento per poter offrire ai nostri utenti apparecchi sicuri e in grado di assicurare un pieno comfort termico unitamente al design esclusivo che ha sempre distinto il nostro marchio. Ancora prima che fossero cogenti le prime norme europee di prodotto, Gruppo Piazzetta è stata antessiniana tra le aziende italiane nel dichiarare per i suoi modelli dati certificati di potenza termica, rendimento ed emissioni ambientali, ottenendo anche la prestigiosa certificazione tedesca DINPLUS, certificazione che poco più di due decenni fa era riferimento per qualificare un apparecchio sicuro e prestazionale. Per conseguire questi obiettivi l'azienda investì e continua ad investire in un laboratorio dotato di strumentazione for sofisticata che è soggetta a scrupolosa manutenzione e taratura periodica ai fini di assicurare l'affidabilità delle misure effettuate. Di concerto con l'ufficio progettazione e di reparto prototipi, il compito principale del laboratorio è quello di sviluppare i prototipi dei nuovi modelli, proponendo revisioni tecniche e regolando la combustione affinché i prodotti soddisfino sia i requisiti normativi dei paesi in cui gli apparecchi sono venduti, sia le specifiche assegnate di prestazioni termiche e di funzionalità. Ultimato lo sviluppo i prototipi devono essere infine rappresentativi in toto di quanto verrà prodotto per essere destinati ai nostri clienti. Solo a tal punto i nuovi modelli vengono affidati ad organismi di certificazione indipendenti che accertano la conformità ai requisiti dettati dalle norme di riferimento. È responsabilità del laboratorio quindi finalizzare l'omologazione con i dati tecci certificati in tempi congrui con la pianificazione della produzione. Per garantire la sicurezza e la durabilità dei nostri prodotti vengono eseguite numerose prove di sicurezza, non solo in conformità con i metodi di prova riportati nelle norme di prodotto, ma anche secondo un protocollo di prove suppletive che mirano a verificare scenari non contemplati dalle normative. Dopo aver identificato tutti i potenziali rischi, la costruzione e la progettazione del prodotto devono assicurare un riconosciuto livello di protezione. Ad esempio per gli apparecchi dotati di componenti elettrici ed elettromeccanici quali le stufe a pellet ed ibride legna pellet, mediante dispositivi di sicurezza certificati opportunamente integrati sull'apparecchio, si inibiscono eventuali problematiche in caso di un guasto ad un componente nella vita del prodotto. La bontà delle soluzioni adottate e dei materiali impiegati deve essere comprovata dal superamento reiterato di test nelle condizioni più gravose di esercizio. Viene altresì verificata la sicurezza anche riproducendo delle ipotizzate operazioni di utilizzo non conforme, ovvero non in sintonia con i libriti di istruzione, se non simulando criticità nell'impianto fumario. Meritano una menzione le verifiche puntuali sugli apparecchi a pellet ed ibridi per garantire l'affidabilità di tutte le funzioni e programmazioni, programmazioni impostabili mediante comandi a bordo macchina, per mezzo di un radiocomando o anche mediante l'app di uno smartphone. L'attività è significativa con prove interne e presso enti di certificazione anche per dichiarare la conformità alle direttive europee di riferimento degli elettrodomestici e degli apparichi radio, applicando fino a 14 norme tecniche per i dispositivi più complessi. Gruppo Piazzetta ha un mercato non solo europeo ma anche in paesi estro-UE, dove per la commercializzazione è richiesta l'attestazione di certificazioni con norme specifiche nazionali. A titolo di esempio, per poter destinare i nostri modelli negli Stati Uniti è necessaria l'approvazione da parte dell'EPA, ovvero l'Agenzia statunitense di protezione ambientale. Anche il nostro settore è stato interessato da una legislazione particolarmente attenta al tema della qualità dell'aria. In particolare l'Italia ha disciplinato la certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa mediante classi di qualità da 2 a 5 stelle. La miglior classe 5 prevede limiti più severi in Europa, con soglie per alcune emissioni ambientali oltre il 50% inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento europeo di progettazione ecocompatibile. Soddisfare questi limiti è stato sfidante, tra necessità di migliorare ulteriormente la combustione di modelli già performanti, sviluppando aggiornamenti tecnici da unire all'estetica. Poter proporre ai nostri utenti prodotti a 5 stelle significa poter beneficiare di generatori di calore con l'elevato rendimento energetico unitamente alla migliore classe ambientale. L'impegno del reparto con attività di ricerca e sviluppo è stato importante per soddisfare la migliore classe, senza diminuire le potenze termiche utili dei nostri prodotti. Inoltre aver certificato per apparecchi a legna rendimenti superiore all'85% e per un'ampia gamma di apparecchi a pellet valori di rendimento superiore al 91% significa assicurare un minor consumo di combustibile con conseguente risparmio economico per i nostri utenti. A tale risultato è concorso sia un miglioramento dello scambio termico sia soprattutto un'ottimizzazione della combustione. Il compito non è stato facile perché non esiste una ricca letteratura tecnica per la presentazione di focolari biomassa a differenza dei bruciatori a combustibile liquido e gassoso. Il know-how di tutta l'area engineering e soprattutto le prove sperimentali sono risultate quindi decisive. Per ottenere un processo di combustione quanto più completo riducendoli in combusti e le emissioni abbiamo lavorato sulla temperatura di combustione nel focolare e sulla miscelazione dei gas combustibili con l'aria cumburente nella zona di reazione della combustione. Nonostante i risultati ottenuti frutto di un grande lavoro di squadra siamo consci che la vocazione al miglioramento continuo dei nostri prodotti deve continuare ad essere perseguita giovando anche degli importanti contributi che provengono da clienti installatori e manutentori. Grazie a tutti.